Tutto è cominciato lo scorso 10 dicembre. Al primo canestro di quella partita i sostenitori dell'Alma Pallacanestro hanno lanciato sul parquet del Pallarubini tantissimi peluche che sono stati raccolti e conservati, circa 2000. 900 di essi sono stati simbolicamente consegnati quest'oggi all'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste che a sua volta li destinerà alle micro aree, il progetto che dal 2005 si occupa della socialità nelle zone urbane ritenute a rischio di disagio sociale. Micro aree perché innanzitutto questi sono dei giocattoli che vanno a casa delle famiglie e non hanno bisogno quindi di esserne sterilizzati né altri ovviamente, poi saranno i genitori a fare tutti i trattamenti che desiderano ma soprattutto perché è un modo per agganciare la popolazione sana e soprattutto i nostri bambini che sono veramente molti. C'è di più e di meglio. L'Alma rappresentata quest'oggi dal presidente Gianluca Mauro e da Daniele Cavaliero ha deciso di avvicinarsi ancora di più alla città e segnatamente alle micro aree. Intanto questa piccola cosa noi grazie insomma all'interessamento delle micro aree offriremo a 10 famiglie o a 10 persone, a 10 persone più che altro che non ne hanno la possibilità 10 biglietti per venire a vedere le partite dell'Alma Pallacanestro Trieste sperando che insomma questa poi anche per i bimbi e per quelli che hanno bisogno diventi una passione. I giocatori dell'Alma da tempo dedicano parte del loro tempo libero ad una serie di progetti di inclusione sociale. Oggi dopo aver appreso come funzionano le micro aree Gianluca Mauro ha deciso di supportare il loro lavoro mettendo la squadra a disposizione di una serie di iniziative che verranno definite meglio nei prossimi giorni. Siamo delle persone fortunate perché riusciamo a fare nella vita quello che ci piace e per cui se possiamo donare un qualcosina del nostro tempo, un qualcosina del nostro fare anche a chi ha di meno io penso che sia una cosa che dobbiamo fare assolutamente.